questo è un utensile che veramente vi aiuterà a risolvere dei bei guai che avete combinato di cosa parliamo parliamo del grabber ovvero di una pinza pneumatica che mi consente di recuperare eventuali utensili che dovessero essere caduti all'interno di tubazioni verticali magari mentre stavo utilizzando il mio miller o altre stratatrici o degli ugelli semplicemente quindi mi è caduto qualcosa in una tubazione verticale non so come fare per andarla a prendere perché altrimenti ovviamente occluderebbe ostruirebbe la tubazione ecco che questa è la soluzione diciamo allora che consiste in una pinza pneumatica che io al momento opportuno vado a chiudere ma prima di stringere le pinze io grazie a questa ghiera vado a ruotare per andare a determinare il punto esatto in cui stringere le pinze e recuperare l'utensile che mi è caduto andiamo a testarla sul campo vediamo come funziona pinza pneumatica io tramite questa valvola rossa io vado ad aprirla e zac stringo le pinze e recupero l'utensile andiamo ad inserire il nostro grabber per recuperare l'utensile che c'è già caduto nel tubo e ci avvaliamo dell'assistenza della nostra telecamera in questo caso telecamera micro drain rigid che praticamente andiamo calare immediatamente a seguire con la telecamera stiamo seguendo il grabber che stiamo calando ecco abbiamo visto che l'utensile è a circa 5 a 6 metri di distanza ecco abbiamo raggiunto il nostro utensile abbiamo individuato le pinze adesso proviamo a recuperare l'utensile abbiamo abbiamo recuperato le nostre catene direi missione compiuta sono disponibili due versioni del grabber di queste pinze questa è la versione normale con apertura massima delle pinze di 60 mm ed è idonea per essere utilizzata in tubazione a partire da 100 millimetri di diametro una forza massima di sollevamento di 36 kg e c'è anche la versione large con un'apertura più ampia delle pinze e ovviamente maggiori dimensioni per utilizzo intubazioni a partire da 150 mm di diametro e con la capacità di sollevamento fino a 68 kg quindi resistono funzionano con una pressione massima del compressore di 10 bar quindi un qualsiasi compressore normale che tutti quanti abbiamo può essere idoneo per l'utilizzo di queste pinze quindi due versioni normale e large tubazione a partire da 100 con la versione normale tubazione a partire da 150 con la versione large 36 kg capacità sollevamento di questa versione 68 in versione large grabber il vostro amico più affidabile